Nasce FS Park, società del polo urbano del gruppo FS italiane per la gestione e lo sviluppo dei parcheggi su tutto il territorio nazionale. Nuovi hub intermodali al servizio del viaggiatore per offrire alla collettività connessioni e spazi da vivere in armonia con le città, per una mobilità sempre più sostenibile, aree di sosta integrate sempre più accessibili alle stazioni, per un viaggio multimodale, digitale e inclusivo. 20.000 posti auto dotati di ricariche elettriche, più di 100 parking video sorvegliati. Terminal bus con 190.000 corse in un anno, più di 60 città in 16 regioni, con oltre 10 milioni di transiti annui in tutto il paese. FS Park, aggiunge valore a ogni viaggio.